Si è svolta al Castello Ruffo di Scilla la quinta conferenza sulla sicurezza stradale e in mare promossa dall'Associazione Nazionale Marenai d'Italia Gruppo Scilla. L'iniziativa, dichiarato il presidente Ammi di Scilla, Filippo Bellantoni, ha avuto lo scopo di contribuire alla campagna sulla sicurezza stradale. Come associazione, dal 2000 abbiamo avviato su questa tematica una campagna di sensibilizzazione che si svolge in tutte le città d'Italia, caratterizzata da un ciclo di incontri. All'interno della conferenza sono stati proiettati dei filmati inerenti consigli alla guida, nonché la proiezione di lastrine con commenti e suggerimenti importanti. Non sono mancati consigli di carattere sanitario e testimonianze di personale che ha subito incidenti. All'incontro hanno partecipato gli studenti dell'Istituto Raffaele Piria di Scilla, del Liceo Scientifico e del Tecnico Trasporti e Logistica Fermi di Bagnara Calabra. Si sono registrati gli interventi del gruppo di maggioranza del Comune di Scilla Mario Patafio nelle vesti anche di componente della Lega Navale di Scilla. I temi della sicurezza sulla strada, sicurezza in mare, sicurezza sulla strada, sono di grande attualità, come tutti ben immaginate. Diffonderli, farli toccare attraverso una giornata passata ad ascoltare delle lezioni da parte di persone qualificate, diffonderli, dicevo, ai giovani, farla vedere ai giovani diventa un momento di crescita, un momento di formazione al quale noi abbiamo il compito, il dovere morale di dare il nostro contributo. Oggi sono anche nella veste di Lega Navale, Delegazione di Scilla, che, assieme agli amici marinai d'Italia, condividiamo gli stessi principi, la stessa voglia di diffondere la cultura del mare e di difendere questo patrimonio che abbiamo. Pertanto, la giornata di oggi, la presenza a questa manifestazione riveste un dovere nei confronti dei giovani, nei confronti di principi ai quali la nostra attività non può prescindere. I temi più in generale della sicurezza, anche di sicurezza sulla strada, noi li viviamo tutti i giorni, anche come amministrazione, sotto gli occhi di tutti, come dicevo prima, che noi stiamo, Scilla sta vivendo, lo si vede in questi fini di settimana, una presenza, un afflusso di persone talmente vasto e talmente numeroso che ci pone per la prima volta determinati interrogativi sulla gestione futura. Noi stiamo cercando, riteniamo, di avere imboccato la strada giusta per ammodernare il nostro Paese, per renderlo più fruibile, per fornire servizi sempre più al passo con i tempi e siamo convinti che l'orgoglio di essere scillesi sarà, negli anni a venire, una costante della quale tutti quanti avranno modo di approfittare e di toccare con mano. Hanno preso poi la parola il comandante di Locamare di Villa San Giovanni, il consigliere nazionale Anmi, Calabria, Pasquale Colucci, e di due delegati regionali Paolo Apicella, Calabria Nord, ed il comandante Giovanni Santoro, Calabria Sud. Molto apprezzata dal pubblico in sala, la relazione del comandante della Presidenza nazionale Anmi di Roma, Nicola Guzzi.